Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. E l'attimo di cui il sole diventa dorato, e il cuore si fa leggero, come l'aria prima che il tempo, ci porti via, ci porti via, da qui. Ti vorrei sollevare, ti vorrei consolare. Allora, al nostro bomber, Tascabile, 162 grazie, per i cuoi 162 gol. Che fosse vero anche soltanto un po'. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo sparire, E invece ti ho visto mirare, e invece ti ho visto sparare, da quell'anima, da quell'anima, hai detto che, hai detto che io non ho. Ti vorrei sollevare, Ti vorrei consolare. Spero che vada avanti così, come sta andando adesso, vedo che i risultati sono tutti positivi, noi siamo contenti come società, e spero che duri. Con questo saluto tutti, e auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Grazie. 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 che facciamo da rappresentante per le loro amiche, allora Federica come è andata la serata stasera? Ottima, il posto ottimo, la compagnia anche, non ho proprio da lamentarmi ho mangiato benissimo, poi c'è stato il karaoke che ha molto diciamo reso calda e accogliente la serata e poi comunque si sa che la dirigenza in queste cose è molto capace di fare entrare nel vivo delle serate le loro giocatrici, quindi volevo ringraziare tutti, Italo in prima persona ma come il presidente, Renato e tutti, solo farvi gli auguri di buon Natale, buone feste a tutta la squadra, rispondo per tutta la squadra Buonasera, faccio tanti auguri e ringrazio per questa magnifica serata tutta la dirigenza, grazie Buonasera a tutti, la festa è finita Care cose Buonasera a tutti, grazie